I'm a bobby girl, in a bobby world, like in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, you dress me everywhere, imagination, like it's your vision. Oh, sono arrivata, Chelsea! Arriva, mamma! Ti piace questo completino? Mamma, è orribile! Barbie, ho organizzato una serata al cinema, invita pure Irene e Mike. D'accordo. Ora telefono a Irene, pronto? Pronto! Ciao, Ken ha preso quattro biglietti per un film horror, che ne dici? Ottima idea, ci sto! Il film è stato spaventoso. È proprio vero. Cosa facciamo adesso? Vuoi vedere il mio vestito nuovo? Sì, bella idea. Eccolo! Ma è più brutto del film horror! I'm a bobby girl, in a bobby world, like in plastic, it's fantastic, you can brush my hair, you dress me everywhere, imagination, like it's your creation. Come on, ball! Eccolo! Comin BRI